Eccoci qua anche questa sera, la sera sarà una puntata estremamente pubblicitaria, chissà Non lo so, ci sono delle etichette sparse non a caso, qua è già arrivata Manuela Russo che è una tua amica col mio cognome È una mia amica carissima di Roma, una delle mie migliori amiche Qua io inizio a vedere dei numeri da diretta che in 345 chiacchierate non avevo ancora visto Quindi tu mi devi spiegare questa cosa, dopo c'è anche Raulus Berti, Letizia Grignaffini, Elena Venturini Però io non sono abituato a gestire con una regia così Neanche io ti faccio diventando paonazza, non so se si rende No, me ne frega niente Aspetta, è arrivato Stefano Storti anche, ti salutano tutti Comunque Sono i miei amici Che giorno è oggi Lucrezia? Oggi è il 14 dicembre E ieri è la santa Felipe de Cordoba Felipe è il presidente della mia web radio Noemi Bignotti, io qua ho due mani gente, però ce la farò Sono le 21.05, questa è la chiacchierata numero 345 come dicevo prima Che corrisponde più o meno mio peso e anche la mia età Dai, svegliamo subito come e quando ci siamo conosciuti Allora, noi ci siamo conosciuti grazie ad una persona a me molto molto cara Che non vuole essere nominata però Perché una sera non sapevamo cosa guardare in televisione Dato che sia Netflix che Prime scarseggiavano a livello di qualità E lui mi ha detto Guarda, conosco un medico che ha fatto questa intervista La guardiamo, fai su YouTube Abbiamo guardata, abbiamo passato un'ora e venti minuti così ipnotizzati A vedere voi due parlare, a vedere queste fotografie Cioè io sono una delle persone più ansiose del mondo E lo sanno praticamente tutti E io mi sono rilassata tantissimo Infatti volevo poi diffondere il verbo con tutti i miei amici un po' così ansiosi di natura Comunque è stata un'esperienza fantastica Al che ti ho cercato su Instagram e su Facebook E ti ho chiesto all'amicizia E la prima cosa che tu mi hai risposto è stata ti intervisto Cioè io non so nessuno E tu hai detto ma io intervisto anche la gente che passa per strada volendo Basta che c'è qualcosa da dire E soprattutto per come ti ho trattato prima della diretta Lo puoi dire Ma non si possono dire le parolacce Ma sì, sono già le 9.10 quasi Comunque ho detto oddio sono agitata La risposta è stata non rompere il cazzo Ecco Direi che insomma ci siamo Esatto Di fatto io sono accompagnato anch'io dalla stessa bottiglia che hai tu E io sono della dinastia degli amari Come disse un certo personaggio Io invece sono dolcissimo Io sono dolcissimo Quindi ci compensiamo E a differenza tua Io me lo bevo Perché te sei sotto tachipirina E io anche se ho il naso fluorescente Stile sedia tua Posso berlo Però solo un bicchi Un goccino Tanto per brindare al tuo cognome Ecco Il mio cognome che non è assolutamente d'arte Esatto Allora Da dove parliamo? Ah da dove vuoi tu Anche perché mi ha Allora va bene Allora Adesso voglio sapere cosa hai trovato Visto che mi hai detto che hai cercato E hai fatto delle indagini in privato Eh sì E ho trovato già delle cose Che mi avevi persino Insomma Ho fatto pensare male Allora Adesso le faccio vedere Perché Questo qui Ecco Condividi Condividi schermo Questo Chrome ha perso l'autorizzazione Per acquisire lo schermo No Dobbiamo fare Eh Io ho i superpoteri Questo non te l'avevo ancora detto È un casino Ah ho già capito Allora È un casino Compromettente sicuramente Devo pistolare un po' qua Nelle autorizzazioni Perché mi hanno preso il computer Me l'hanno ribaltato Tra ieri e oggi E quindi Partiamo allora da C'era una volta Una ragazza Una bambina Di nome Barbara Ok Possiamo dire Il nome Mi è intanto Quali erano le sue passioni Da bambina Allora Le mie passioni Da bambina E purtroppo Per chi mi conosce Le persone che hanno salutato Finora Mi conoscono molto bene Purtroppo La bambina era estremamente timida Quindi come passione Aveva la radio La televisione E si era inventato Un alter ego Che si chiamava Vanessa E che faceva E che faceva L'archeologa Showgirl E quindi il mio sogno Fino ai sedici anni È stato di fare L'archeologa Non la showgirl Perché Penso Che mia madre Abbia ragione Perché dice Che mi muovo Come una gatta Di marmo Quindi insomma Non avrei potuto Avere un grande successo In televisione Almeno ballando O cantando Anche se mi piacerebbe Studiare canto Anche perché Sono giovanissima Quindi le mie corde vocali Devono ancora formarsi Però Però Cos'è successo? È successo Cos'è successo Non avrei mai potuto Frequentare Quell'università L'idea di fare L'archeologa E A diciotto anni Una mia ex insegnante Nonché presidente Di una radio locale Che tuttora esiste Mi ha chiesto Se volevo fare La segretaria Per questa radio E ci sono rimasta Per quindici anni E E lì ho imparato Un sacco di cose Anche se Qualcuno di cose Intanto Dato che Ti sentirai A tuo agio Sì Tu Vai avanti A ruota libera Da sola Io esco E rientro E così Io riesco Ma no Ma tu proprio Mi stai mettendo Veramente Ma non mi metti Neanche minimamente In difficoltà Fregatene Fregatene Io arrivo Sotto Cioè Ehi amici Scrivete qualcosa sotto Che così Io vi posso rispondere No ma tanto per È arrivato Mirko Malaguti No Mirko Mirko Michele Colucci Ah Michele Colucci Il mio storico Alessandro Lui Architetto Lui Le voglio bene E Intanto io Esco e rientro Perché così Riesco A Sì sì no Racconta Quello che non sanno Di te Del tipo Che gli altri non sanno Cioè ci sono delle cose Che so solo io Quelle che mi ricordo Chiaramente Perché ho perso anche la memoria Durante No Come hai fatto Ad arrivare alla radio Quale delle varie radio Eh comincia Io intanto Ti ascolterò Indifferita Io arrivo E stai lì Va bene Ok Allora Benissimo In primo piano Con il mio amaro E il mio disco De Joy Division Allora La prima radio Appunto è stata Radio Base Intente Democratica Mantovana E secondo me Roberto Storti Il presidente storico Sarà in ascolto E ci vedrà E lo saluto tanto E sono stata La segretaria Jolly Per 15 anni Lì Ho conosciuto Delle persone Che sono diventate Parte della mia vita E senza cui Non potrei vivere Tipo il mio migliore amico Che si chiama Gianni Veronesi E che è Un giornalista vero E serio E una delle persone Più dolci E simpatiche del mondo O Michele Colucci Che ci sta seguendo In questo momento Dopodiché Comunque Fare La segretaria Non era quello Che avrei voluto fare Perché io Devi sapere Caro Lucio Visto che adesso ti vedo Che avevo un sogno Dopo la storia Dell'archeologia Che non poteva andare Cioè il mio sogno Era di aprire Un concept store Ma questo ancora Nel 88 Nel 88 Non esistevano Un concept store Io volevo aprire Questo posto In cui Far suonare La gente Fare le proiezioni Fare dei piccoli Spettacoli Piccola ristorazione E metterà Musica Che piace a me Perché io sono Un intollerante Musicale Ma io Io ho trovato una foto Che Già si vedeva Questo tuo Animo musicale Prova Ah Sì effettivamente Qui era un po' La Lady Gaga Dei poveri La Y Sì Il cappellino Fra l'altro Ho scoperto Che l'avevano in molte Della mia generazione Che vengono tuttora Le serate dark Sì E poi anche Voglio far vedere Le coppelle rossa Anzi Forse è vinile rosso Quello che indosso E il vinile è sempre stata Una mia passione L'altra non sono io adesso Ma mia madre Che non ci vede Perché non è tecnologica Comunque Sì Questa è una foto Del 1970 Giusto Per metterti a tuo agio Sì Però già in quell'anno Io ascoltavo la radio Perché i miei genitori Avevano una radiolona Di legno Che era stato un regalo Del nonno Del mio carissimo Nonno Gino E la radio era sempre accesa Perché mia mamma Che ora ascolta solo E unicamente liscio È stata la prima Cioè Quando io avevo Sei anni Cinque o sei anni A farmi conoscere I rockets I craft work E poi Lei era appassionatissima Dei visage Cioè Mia madre Mi ha fatto conoscere i visage Questa voce Mezza spezzata Serve per Creare atmosfera O ci dai un taglio E parli normalmente Come parli in radio Eh no Eh ma sono emozionata Dai Poi c'è anche Laura Occiedino E poi Per favore Trattami bene Perché oggi mi detto Che insomma Vuoi venire a Mantua A conoscermi Per conoscere poi Le mie amiche Non so se Per conoscere le mie amiche E mi ha fatto anche Dei nomi La radio Perché Te sai che io facevo radio Una volta Lo sapevo Cioè te l'ho detto Io ti ho scoperto per caso Quando hai fatto l'intervista Il dottor Vanni Io quando Che poi io facevo L'invasione Della radio E arrivavo E facevo il disturbatore Entravo dentro le radio E cominciavo a fare E poi cadeva Sigla E partiva la musica Ma c'è veramente Ma penso che ti potremmo trovare No guarda Io quando ho iniziato A trasmettere Che è stato per una radio Che non esiste Purtroppo più Perché il fondatore Purtroppo non c'è più Però so che Sua sorella Sara Ci sta seguendo Quindi saluto la Sara Sara Sanguanini La radio Era Radio Virgilio Che è un'altra radio Che si era formata Nel 1976 E con i miei due soci Perché Penso di aver te l'ho detto Faccio parte di un collettivo Che si chiama The Dark Side of Brescia Che fa dei DJ set dark In linea di Massima Nel nord Italia Insomma praticamente Questo Giacomo Ci ha chiamato Per fare una trasmissione Che è andata in onda Per tre anni Tutti i giovedì Che si chiamava Join the Dark Side E qui mettevamo Tutti i nostri Brani bellissimi E soprattutto Molto commerciali E da Join the Dark Side Poi è nato un blog Per cui scrivo Che è della mia carissima amica Silvia Ancetta anche Jean T. Noir Per questo blog Scribacchio Ma soprattutto Questo blog Si occupa anche Della realizzazione Di magliette rock Ma magliette rock Che non sono Molto comuni Perché in pratica Silvia restaura Locandine storiche Diciamo di concerti Anni 70 80 Ciao Gianni Gianni è un altro Ferrarese Di Vigarano Allora tu è vicino Oh c'è anche Giorgio Di Casal Maggiore 33 Giri Che è Un collettivo Sempre che fa musica Darkson Dei ragazzi meravigliosi Che sono bravissimi Ma spiegami una cosa Il passaggio Da bionda A rossa A nero Ecco Questa è una foto Fantastica Beh qui Praticamente Cercavo di essere Poisonivi Dei Krems Però non ci sono riuscita Con molto successo Nel senso che L'unica cosa Che sono riuscita a fare È stata trovare Un marito Che purtroppo Non aveva trovato La donna per lui In realtà No io sono assolutamente Instabile A livello di capigliatura Perché cambio colore Di capelli ogni mese E il dottor Massimo Mazzola Che è il mio Parrucchiere Insieme All'altro Grande guru Della mia vita Che è Raul Usberti Che ha scritto prima Sono disperati Perché tutte le volte Che vi presento Da loro Sono nera Voglio diventare platino Solo che Io avevo una testa Di capelli ricci Così Adesso ho Quattro cose In testa Striminzite Che resistono Per inerzia Salutiamo Lidia Musso Che non conosco È una mia amica Fotografa Anche lei Cambia colore Ogni tre per due Oddio Allora Diventerò subito Sua amica Comunque Stavamo dicendo Della radio Quindi Siamo stati Sono stata Quattro anni A radio Con Gianni D'Arsed Poi con Gianni Veronesi Un giornalista serio Abbiamo poi Fatto una trasmissione In cui in pratica Fingevamo Di essere in auto Io non guido Sono totalmente incapace Nel senso che sono Un vero pericolo Nella trasmissione Io ero la guida Di una macchina Entravamo in un tunnel Io facevo un incidente E ci trovavamo Catapultati Negli anni 80 E quindi Andavamo Nella sede Della radio E ci davano corda Fra l'altro E noi eravamo convinti Di essere nel 2020 Grazie Raul Ti voglio bere E eravamo nel 2020 Anzi no Prima Eravamo nel 2018 2019 E noi andavamo là E chiedevamo Un cellulare Per telefonare C'erano ancora i gettoni Ci guardavamo Come dei pazzi E quindi parlavamo Di quell'anno Io mettevo pezzi Di quell'anno Eravamo andati A documentarci Sui giornali Locali Di quell'anno Davamo la programmazione TV Di quel giorno E insomma Era molto divertente Prendi fiato No Fermati Fermati Perché hai detto Una cosa Riuscirà Luce Russo A parlare Sì Perché ti fermo Purtroppo Sono un po' Logorroica Adesso inizia a ridere No No Del dottor Vanni Ha scritto La cosa più bella Dottore Lei non lo sa Ma mi ha conosciuta Forse non si ricorda Per fortuna Ma un giorno Si troveremo Tutti a Ferrara E andremo a mangiare Ma non lo so Se c'è ancora C'è un ristorante Che si chiama Come uno dei miei film preferiti Comunque Gianni Moretti Spero Che ci porterà Che è appunto Un ferrarese doc Che è Ex grande archettone Ecco Ciao Augusto Che mi ha presentato Il dottor Vanni E andremo lì a Ferrara Andremo a mangiare Tutti insieme Chiameremo anche La Margot Perché appunto La Margot È una tua amica Ma anche È una mia amica Che organizzava Dei concerti favolosi A Ferrara Oh Eccola qui La nipote De Craftwork Io comincio Cioè Ho preso anche Il bicchierino Tema Vedi Ah io non posso Allora Questa foto Per me È molto speciale Perché è di una Delle prime serate Fatte a Liobar Che è un locale Di Brescia Locale sulle rotaie Perché è proprio Sulle rotaie Del treno E infatti Apre le 10 Quando i treni Smettono di passare In quella zona Con la Darkside Siamo stati per Tra quattro anni Resident Tutti i sabati Facevamo una serata Di solito Con un live E saluto Loris Dandy Noire Saluto Mari Castile Che sono i compagni Di questa avventura E Daniela Analogica Be Life Che è stata La nostra compagna Ciao Andrea E qui Insomma Diciamo Che avevamo Questa Questa nostra divisa Di camicia E cravatta E fra l'altro Lino Il proprietario Del Liobar È stato un po' Un matto Perché è un locale Storico Con super DJ Super gruppi Tutto il resto Ci avvisse Di una festa privata Un compleanno Privato Dove noi Per la prima volta Mettevamo le mani Su una console E lui ha detto Mi piacete Venite a fare La stagione Lì da me Ed è stato Un successo E da lì Siamo andati avanti E abbiamo fatto Anche serate Con gente importante Hai capito? Stare dietro Una console Quali emozioni Ti ha dato E cosa Ti manca adesso? Allora Emozioni Tantissime Perché Allora Vedere Una pista E siamo sempre Stati molto Fortunati Dico Non posso dire Bravi Magari bravi Vedere una pista Piena Ok Mettere la musica Che ti piace Mettere anche Delle cose Che magari Non sono Standard Magari Perché sia io Che Marika Che Loris Abbiamo sempre Un po' Spaziato Nel senso Che qualcosa Azzardavamo E vedere La pista Piena La gente Che si esaltava La gente Che stava bene Cioè vedere La gente Che sta bene Che si diverte È sempre quello Che io Ho desiderato Anche quando dicevo Di aprire questo Concept store Questo locale Cioè io vorrei Che la gente Stesse bene Forse perché io bene Non ci sto mai Come ha detto qualcuno Ed è una cosa Meravigliosa Comunque Adesso diciamo Che sono Una pausa Di riflessione Ma a breve Avrete delle nuove Fantastiche notizie E mi vedrete Di nuovo In console Attendere Prego Aiuto Arriva la foto Eccola Questa è un'altra foto Che praticamente È stata scattata In un posto Per me Molto speciale Che è un pub Che c'è a Sustinente Qui in provincia Di Mantova Il pub È di Fabio Alias Rocco Pavilioniti Perché ha preso Il suo nome Anche dal personaggio Di Cinico TV E anche lui Sulla fiducia Ci fece suonare Scusate Non posso dire suonare Mettere i dischi Perché suonare È un'altra cosa Ci fece mettere i dischi In questo locale E anche lì Insomma Ci fu tanta gente Fu Veramente Un gran successo Poi lì Diciamo che a quel posto È legata anche La conoscenza In diretta Di una persona Senza la quale Non posso vivere Non sono i miei figli Senza i quali Non posso vivere Ma non li ho conosciuti lì Qui siamo sempre All'Io Bar Con la maglietta Ufficiale Della Dark Side Incredibilmente Non ho le dita Messe in una posizione Strana Perché sembra sempre Che io stia Mettendo le mani Nella scatola Delle caramelle Quando uso Una console E vicino Non so se notate Si vede una cassetta Una cassetta Di contenente Sì Allora Quella cassetta Una cassetta di vini Dove Il mio collega Dandy Noir Mette i suoi cd Ok Fra l'altro Appunto Oltre ad avere i cd originali Lui a volte Per comodità Magari Prendeva Se li doppiava Su dei master In modo che Si faceva Metteva tutti insieme Dei pezzi Ok Da cd originale Il problema Che lui cd Li numera E invece Ma cos'è Cos'è un cenobita Se entri cieco Solo perché Tu sei un insegnante Cioè in pratica Lui nomina Nomina Tutti i cd Con il numero 56 E li riconosce Fra tutti Quindi tutte le volte Oddio Borsi Ho perso il cd 56 Aiutami E i cd Sono tutti nominati Con il numero 56 Quindi non ti dico Ed è molto bello Questo Perché sono Diciamo Episodi Che fanno sempre A noi molto ridere Come quella volta Che a Parma Durante un 17 Mi cadde In un buco Della console Ah beh Allora Questo È un pass Di quando lavoravo Radiobase Era la stagione Dei concerti Alle feste dell'unità Di Carpi Di Correggio E riuscivo Ad entrare Gratis Tanto perché A questi concerti Non ci andava nessuno Della radio Perché non interessavano Nessuno Figurati io Che era una salta fossi Del numero 1 Poi Bad Religion Un gruppo punk Che sta per tornare in Italia Fra l'altro E Tra il pass più bello Che ho avuto Che ho avuto È stato per i Pornos For Pyrus Che non so se tu li conosci Praticamente i Pornos For Pyrus Sono un gruppo Che è nato Dalle ceneri Dei Genes Addiction Che è un gruppo Che è nato Il periodo Grunge Che è un leader Che si chiama Perry Ferrell Che Diciamo ha avuto Qualche problema Di dipendenza Comunque Perry Ferrell Fondò dopo i Pornos Dopo i Genes Addiction In Pornos For Pyrus Io andai a questo concerto E mi misero un adesivo Tipo Petturina Qui Con scritto Radio Porno E io andai in giro Tutta la sera Con questo adesivo Con scritto Radio Porno E Infatti Evi molto successo Ah Marco Cavocchi Cestari Mi dice se mi ricordo Sineodo Conor Marco Cavocchi Cestari È famoso per essere stato Mio marito Per 25 anni E lui mi portò a vedere Sineodo Conor E io mi sono dimenticata Totalmente di quel concerto Tanto che me l'ha dovuto Ricordare lui Quindi per dire Però l'ho rivista Il mese prima Che scattasse il lockdown A Parma In un concerto Organizzato da Marco Pipitone Che è Non so se lo conosci È Cioè È un giornalista Di un DJ vero E E quello me lo ricordo Perché quello Fu veramente Un bellissimo concerto Ah beh Qui sono in un altro locale Qui sono molto legata Questo locale La Latteria Molloi di Brescia E saluto Alberto E questo qua è stato il DJ set Dopo il concerto di Giovanni Lindo Ferretti Perché ho avuto la fortuna Di mettere i dischi Quattro volte Dopo il concerto di Giovanni Lindo E non sono mai riuscita neppure E non sono mai riuscita neppure a sfiorarlo Comunque La cosa più bella che ti hanno detto Al di là della console E al di qua della console Cioè Nel senso Cioè Dietro davanti la console Durante le serate O in generale Durante le serate Allora Durante le serate Mi hanno detto Sei la più alta Per questo Qualcuno La capiranno in pochi Perché io Indosso delle calzature Sempre molto rigorose Che mi fanno spiccare Come i miei famosi Kilt Che ormai Visto che sono un po' ingrassata Sono diventate delle cinture Non posso più indossare Penso che le regalerò a mia figlia Che ha un fisico decisamente diverso E questo Passando davanti alla console Dietro la console Niente Mi hanno fatto i complimenti Perché mettevo dei pezzi Che magari non erano conosciuti O che erano un po' sepolti Nella memoria Insomma Che io ricordo Perché ho delle basi Sei altissima Sì sono altissima La Letizia si ricorda Perché una serata Al concerto di Peter Murphy Non si vedeva niente Perché c'era il mio testone davanti Eravamo io E Cristiano di Noceto E dietro c'era Letizia Che non vedeva nulla E quindi insomma Sono contenta Perché Insomma E poi Sono molto contenta Del fatto che ci abbiano sempre detto A noi Tra virgolette DJ E anche come conduttori radiofonici Che siamo molto alla mano E che insomma Divertiamo Cioè mi piace molto Questa idea di divertire Questa è una foto Che mi ha fatto Viola Viola Violetta Che è un'organizzatrice di eventi Di Milano Fa delle serate Che si chiamano Exvoto Che sono delle serate dark Molto eleganti Molto belle È venuta a trovarci A Leo Bar Per conoscerci E Mi piace molto Questa foto Perché io In console Sono così Non ho un bicchierino Di carta davanti A una lampada Però io in console Cioè anche che sono timida Tengo sempre la testa bassa E E niente E non guardo davanti Perché ho sempre paura Però Cioè mi faccio Prendere dai pezzi La prima volta Che sei salita Su un palco Seppur piccolino Perché Comunque Hai davanti la console E tutto Non è Un palco Tipo i cantanti Con migliaia di persone No? No In realtà Cioè sono salita Su dei palchi Perché io sto immaginando Al In quel posto lì Che mi hai detto Dalla ferrovia Me lo immagino piccolo No Allora Io non sono mai stata a Berlino Tutti dicono Che sembra un locale berlinese Perché sono diverse stanzette piccole Con dei murals Dei graffiti E Effettivamente lì La console è molto piccola E Cioè noi eravamo in quattro All'inizio Ci diamo i turni Però era veramente Molto piccolo Invece ad esempio In Latteria Molloi Il palco È un palco da concerti Perché loro fanno Fanno dei concerti seri Cioè io Ho messo i dischi Dopo Peter Murphy Che è il cantante Dei Bauhaus Dopo i Morfine Che veramente Dopo i Barmine Kunz Cioè lì fanno dei concerti Di quel tipo lì Lì il palco è grosso Lì ti sembra veramente Quindi Quindi vedere Riuscire a riuscire a vedere in faccia Poi quando vedo che loro si divertono Io parto con la mia selezione Che io non preparo mai prima Cioè io vado al momento Perché una cosa che mi ha detto Una persona a me molto cara Che è mia cugina Erika Che è una che ha due coglioni così Nel senso che è una che è veramente molto Istruita anche a livello musicale Lei mi ha detto che io ho la facoltà Di capire i gusti della gente Guardandola in faccia Anche se non la conosco E sarà perché appunto La bambina di prima La bambina timida Si è formata da sola Leggendo ed ascoltando musica E quindi Se non avessi avuto tutti quegli anni Di solitudine Di timidezza Non avrai la cultura musicale Che ho adesso Che si è anche fermata Perché adesso insomma Diciamo che comunque Lavoro Ho due figli Ho una vita sentimentale Povera anima Comunque insomma E ho anche altri interessi Che potrebbero svilupparsi a breve Quindi dovrei dare un annuncio Ciao Alessandra Alessandra Safiria È una DJ di Napoli E invece Erna È la mia mamma preferita Non la mia Ma è la mamma Più rock Che io conosca E che viene alle serate Dark metal con noi Anche se ha più di vent'anni E questa foto Diciamo che è stato Uno dei primi santini Che sono stati pubblicati Per la Dark Side of Brescia A quella di Gianluca Bacchi Che è un artista mantovano Che è insegnante di disegno E lui ha fatto delle foto bellissime A noi della Dark Side Allora Valeria non la conosco Comunque sì La Latteria Molloi Ospita tuttora Adesso fra l'altro Fa anche degli spettacoli Di teatro Di cabaret Sono bravissimi Sono dei ragazzi giovani Ma sono dei ragazzi serissimi Bravissimi Onestissimi E io Devo dire che Abbiamo sempre avuto La fortuna Di collaborare Collaborare Lavorare Con locali E con radio Di persone Veramente serie Rispettose E alla mano Penso che sia stata Una grande fortuna Veramente Ecco Allora Qui si vedono Due delle mie Perversioni principali I vinili E qui sono a radio Virgilio In una foto Che secondo me È stata scattata Da dandy noir E le scarpe Da ballerina Che amo indossare Nella mia vita Di tutti i giorni Praticamente Ci andrei anche a letto E sono gli anfibi Questi purtroppo Mi sono stati asportati Da mia figlia Quattordicenne Sono degli anfibi A 22 buchi Vegani Anche se io Sono una carignora Che ho preso Da Fabio Sandrelli Che so che ci sta guardando In questo momento Che ha un negozio Dark Qui a Mantua In provincia di Mantua Che vende Delle cose bellissime E io sono famosa Perché sono una collezionista Di Doc Martens E li metto anche d'estate Però ha senso Vinili e vino Ecco Ma abbiamo parato di vino No No è perché Cioè Devi farlo Trappare Alla regola Perché con la tachipirina Ci sta bene Un go No dai Non posso Perché poi se sto male Sono anche a casa da sola C'è chi mi viene a soccorrere Nessuno E quindi Cioè morirei Così Sbranata dagli alsaziani Come Bridget Jones Hai capito? Che è uno dei miei idoli Anche perché Può sembrare Ma io non guardo film horror Ma guardo soltanto Commedie romantiche Ecco Questa è la pagina Sul blog Join the Dark Side Di cui vi parlavo prima Qui trovate qualche Mio raccontino Ultimamente sto scrivendo poco E volevo ringraziare Tre persone Che sono Manuela Antonella Dettore Amato Che Fidandosi Non so se ha ragione di me Hanno fondato Una piccola Casa editrice Non solo E Vogliono pubblicare Il mio primo libro E quindi Annunciamo In diretta News Di questi giorni Che Ci sarà Un libro Se riesco A metterlo insieme Visto che abbiamo già raccolto Ho già raccolto Un bel po' di materiale Solo che lo devo fondere Mi hanno detto E ci sarà Questo bel libretto Di cui forse possiamo Addirittura Anticipare il titolo Tu puoi fare Tutto quello che vuoi Tu puoi dire Tutto quello che vuoi Volevo essere la morte Si Si chiamerà E niente Ringrazio Questi tre Signori Che sono molto seri Che con l'editoria Hanno Hanno a che fare Nel proprio livello Professionale E che appunto Hanno deciso Di imbarcarsi In questa avventura Dandomi fiducia Adesso Metterò Seriamente A scrivere Torniamo indietro Ah beh Sì Questa è una foto Di un paio di mesi fa Che mi ritrae Allora Questa foto È stata scattata Nel negozio di alimentari Dove lavorava La mia mamma E Lo sguardo è basso Perché più in alto Vedo una bottiglia Di bollicine Però sto guardando In modo Un po' Così godurioso Una forma Di grana padano Perché purtroppo Una cosa che mi contraddistingue È un appetito Vorace Io mangio Non mangio Fuori pasto Ma a pasto Mangio anche Per Gli altri componenti Della famiglia O di altre famiglie Cioè È una certa passione Per la grigliata Sì Felipe Lo so che lo comprerai Subito il libro Nel caso Ah Ecco Yuri Yuri È un mio carissimo amico Mod Eh Non la sapevate questa Non la sapevo neanch'io Ho detto la parola Grigliata A gusto Quindi E E niente Insomma Quindi Io sono sempre alla ricerca di cibo Più che di Alcol Di cibo Anche se Diciamo che Oh Eh Va bene Ok Se no ti faccio la dedica No Anche se devo dire la verità Ci sono gli episodi Molto simpatici Della mia vita Legati al consumo di alcolici Ecco Vedi Cioè Editori Guardate Cioè vogliono tutti Vogliono tutti il mio libro Peccato che non potrà uscire per Natale Per motivi Indipendenti Da loro volontà Però Andrà avanti E poi ce n'è già un altro In programma No 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 Non svelare niente Tutto subito No Poi facciamo un'altra chiacchierata Più avanti Ma certo Così ci avrai anche delle Novità no Aspetta Ecco vedi Vedi di finirlo Allora Sì Scusatemi Ecco qui Questi aneddoti Aneddoti su facebook Che purtroppo non sono inventati Sono davvero la storia della mia giovane vita Ma racconta Quell'aneddoto Di che la bottiglia Non riuscì ad arrivare in macchina Quella che Delle bottiglie Con i capelli Con i capelli alla gullit Sì Perché I primi tempi Che stavo con Marco Cavocchi Gestari Che appunto Mio ex marito Che comunque Saluto sempre Con molto affetto I primi tempi Io ero bionda Con questa testa Di capelli ricci Insomma Sembrava un po' Candy candy Capito E E niente Il sabato sera Andavamo a ballare All'Oniri A Carpenedolo Al Condor A Modena O il Belami Che era No il Belami Monami Pardon Che era Dalle parti di Brescia Che adesso si è riformato Con un'altra formula Saluto Dario Che è il proprietario Insomma praticamente A lui non andava bene Che io andassi fuori Con questa testa La candy candy Quindi lui Comperava dei flaconi Da tre litri Di lacca nera E mi dipingeva I capelli Tutto il sabato pomeriggio Per farmi diventare nera E poi me li stirava In modo che io Somigliassi a Siuxi E Il problema è che Qualche giorno prima Lui mi aveva presentato La madre Che lavorava in un negozio Molto VIP Per signore A Manto Vendeva abbigliamento Per signora Mi aveva presentata E io ero andata lì Con un tagliore Mi ricordo di Gottier L'unico che ho avuto Nella mia vita E avevo fatto Bella figura Tre giorni dopo Invece ero a casa Testa in giù Con lui Che mi metteva Stalacca Entra suo padre E dice Ma Come state facendo Voi due Ah no Niente Stiamo preparando Per la serata Che andiamo a una festa Lui ci ha regalato Una bottiglia di Ferrari Poi quando è uscito Ho detto alla moglie Non so C'è Marco in casa Con una specie di Gullit Che sarei stata poi io E vabbè Marco riuscì a farmi Anche l'extension Con il manico Di una bottiglia da palestra Questa non te l'ho data io L'hai cercata tu Allora Questa è la Dark Side of Brescia Quindi in mezzo Ci sono io Con l'ennesimo taglio di capelli E colore In questo caso Opera Della mia amica Francesca E poi C'è Mari Castile E dietro c'è Dandy Noir Che è il nostro spirito guida Eri tra me Dice che è presente Quarto per Marsella No Io penso che il dottor Vanni Abbia un futuro Come cabarettista E io lo voglio ospite Nella mia trasmissione Assolutamente Oppure voglio fare Un'intervista a tre Col dottor Vanni Se si può fare Adesso Quando il dottor Vanni Pubblicherà Il l'ennesimo libro Perché uno è uscito Da poco Eh lo so Io non ci sono potuta andare Purtroppo Avevo mandato una persona Ma Questa persona Poi ha avuto L'impegno di lavoro Non ha potuta andare Dato che io Non compro online Perché io vado Le librerie Sfoglio Io andrò a Ferrara E andrò a Comperarlo con le mie manine No Le voglio tutti e due Perché questo è il secondo volume Basta che non mi chieda niente Dottor Vanni Anche il terzo Ma tutto Comperiamo Ho ascoltato Ho guardato ben tre volte La sua trasmissione L'ho girata a tutte le mie amiche Quindi A proposito di libri Allora Facciamo così Andiamo direttamente qua Adesso mi farei una domanda Tipo scolastica E io Non capirò nulla Allora Io sono Un'accumulatrice seriale Di tutto Praticamente Anche se Non ho Perché andiamo d'accordo Siamo andati d'accordo Da subito E di che segno sei? Bilancia Io sono vergine Scendente bilancia Quindi come disse Una certa astrologa Due balle così Allora Io Anche Nella mia idea Di concept store Che voleva vendere Anche vestiti Praticamente Colleziono Riviste Di moda Non posso dire Neanche di costume Ancora De Vogue Dell'88 Dell'89 Del 90 Anche se parte Me ne ha gettate Durante un trasloco Il kawaoki Vabbè Non glielo perdonerò mai Comunque Io passo ore A sfogliare Questi giornali E ritaglio Tutto quello Che mi interessa Penso di avere Una mansarda Piena di ritagli Con appunti Da cui prendo spunto Da cui vorrei Prendere spunto Da cui mi nascono 250 idee Di cose da fare Poi dopo alla fine Non ne faccio mai Neanche una Perché poi dopo Arriva sempre qualcosa Che mi interessa di più Capito Però io ho Tonnellate di riviste Ovunque Ad esempio C'è qualcuno collegato Che può Confermare In casa mia Si cammina Di traverso Perché non si riesce A camminare Ho fatto le corsie Giusto per due piedi No? Quando sono in stampelle Non riesco A camminare Accidenti No io ho trovato Una soluzione Un mobile Che c'era Io adesso vivo In un appartamento Arredato da altri E per fortuna C'era un mobile Che doveva essere Una dispensa Ed è pieno di riviste Oppure degli inserti Di Repubblica Del Corriere della Sera Sui libri Eccola lì Confermo Ho anche tanti libri Perché La mia amica Sonia Borsatti E il mio amico Stefano Storti Più che altro La mamma Di Stefano Storti Che è una signora Meravigliosa Che anche lei Ha poco più di vent'anni Si sono disfatti Di libri Che Non utilizzavano più Che avevano già letto Per cui Mi sono arrivata in casa Scatoloni di libri Anche del 1940 Bellissimo Oh, guardate Sono delle cose Meravigliose E È stato bello Perché Io sembravo Una bambina impazzita E sia Stefano Che Sonia Erano felicissimi Perché Non pensavano Di dare così tanta felicità Ad una persona Ecco Vedi Questo è uno di questi libri Questo è il parco Che si vede Dalla finestra Della mia cucina E E Secondo me Il profumo Della carta Soprattutto Della carta vecchia È come Citando Una di quelle Commedie romantiche Che mi piacciono tanto È come Il profumo Di un bouquet Di matite Ben temperate Ho anche quelle Dentro Ho anche quelle Dentro Una boule Grande così Che Ho detto Mi dispiace Buttare via I truccioli Delle matite Colorate Perché ci voglio Fare qualcosa E allora Ho preso Una ciotola Da biscotti Vecchia E ho iniziato A temperarla Lì dentro E devo averla Ancora da qualche parte Ecco Vedi Questa non la potresti Però fare Ad esempio Vedere ad un allergico Tipo mio figlio Che comincierebbe A stare A mettere Da cucchia A Ferrara Anzi a Cento Dove abiti tu Ecco Io cominciò Ad essere un po' Innamorata Di Lidia Musso Lidia Musso Ti chiederà L'amicizia Preparati No Primo Anche lei È molto 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 Svalvolata Quindi andrete D'accordo Ma io non sono Svalvolata No Nel senso buono Oh Ecco Questa è la pagina Di Microradio Che è questa web radio Che è appena Grazie Che è appena Diciamo È nata A giugno È una radio Che non ha Fini di lucro Ed è stata Costituita Grazie alla volontà Di persone Che di musica Ne sanno E soprattutto C'è la collaborazione Di una serie Di cooperative Sociali Che aiutano Persone in difficoltà E infatti Abbiamo fatto Recentemente Una cena Perché ci sono Più di 80 DJ In questa radio E abbiamo fatto Una cena Con alcune Di queste persone Di questa cooperativa Sociale E io non ho mai visto Così tanta dolcezza In queste persone Così tanto bene E soprattutto Poi ci conoscevano tutti Cioè loro ci ascoltano Questi ragazzi E ci conoscono tutti Per nome Ci hanno abbracciato tutti Ed è stata Una dolcezza Pazzesca Veramente E comunque Un gran bel progetto Perché Al di là Delle trasmissioni Musicali Parlate tutto Che c'è Dal tango Al liscio Al dark Al metal Allo sport Insomma È un progetto Anche che fa serate Che si sta molto Evolvendo E fa dirette Anche di rassegna Come Jazz Adesso Quindi Qui sapete come collegarvi Scaricare l'app E tutto E devo dire Che Essendo soprattutto Un progetto Che non ha scopo Di lucro Però Cioè voglio dire C'è un impegno Incredibile Da parte di tutti Nessuno escluso E Felipe Che è Un DJ Molto Bravo Che io conoscevo Anche come cliente Del negozio di dischi Per cui ho lavorato Per anni E anche Un serissimo avvocato Devo dire Che Ha fatto un grandissimo Lavoro Insieme a Gaetano Insieme a Tanta altra gente A Memphis Insomma Gente seria Questo è un tasto dolente Perché Nella mia vita Io ho contato Penso 15 traslochi 6 Penso dal 2015 Ad oggi Per vari motivi Mio padre Che si spostava Per lavoro Poi dopo Separazioni Divorzi E tutto Essendo un'accumulatrice Ed essendo un po' Appassionata di musica Ma appena appena Ho circa 2000 cd Questo è l'ultimo appartamento Che ho abitato Che sto abitando E questo è stato il mio arrivo Nel dicembre Del 2020 Con parte Della roba Da disporre Con mio figlio Che ha cercato Di darmi una mano Però abbiamo commesso Una pecca incredibile Non abbiamo messo i cd In ordine alfabetico E per una vergine È un danno Incredibile Allora li tolgo subito Sì infatti Fra l'altro ce l'ho ancora A casa di miei genitori Quindi ho portato Solo un po' Perché l'appartamento è piccolo Ma no niente L'idea veramente Io ho anche king e moda Insomma io Il dottor Vanni Guardi Solo perché Dottore lei Ha sposato E io Insomma spero Che qualcuno Me lo chieda presto Di sposarlo Ma Potrebbe essere Il mio uomo ideale Glielo dico E Dai lo so che è pronto Mi hai detto che hai trovato Della roba Quindi cioè Non oso pensare No no Non dico E qui cioè Voglio dire Qui si vede praticamente Il meglio di me Allora questa è stata La folia di quest'estate È stato il regalo Di compleanno Di una mia Carissima amica Che ha il tuo cognome L'extension Che io desideravo Da quando ero bambina E qui sono a Roma Sono andata Quest'estate a Roma Con i miei Bambini Manuela mi uccide Perché hanno quasi 15 anni I miei figli E un giorno L'ho stupita Non vestendomi Da nano Dei fossi Con gli anfibi Ma mi sono messo Un bel vestitino Scollato Rosa e nero E lei ha voluto Immortalare Questa fotografia Davanti A questo suo quadro E niente È una foto Che Cioè risulta Strana Perché sembra Una donna Insomma Capito Sono vestita Da donna Questa fotografia Quando Quando Hai Pronto Il colpo di scena Lo so Quando hai iniziato A fare musica Qual è stata La prima canzone Che hai Fatto Ascoltare Agli altri Allora La prima canzone Che ho fatto Ascoltare Agli altri Allora Guarda La primissima Selezione Secondo me Penso che sia Partita Con Tears for the Creatures of the Night Di Taxidomun Seguita Da Baby The Virgin Prunes E poi Dopo Diciamo Che Sono passata Per un gruppo Che per me Ha un significato Un po' Particolare Che sono I sister On mercy E E ho messo Body Electric Dei sister Of mercy Seguita poi Da Over days Far away Che è una canzone Di Neil Young Però rifatta Da The Mission E poi dopo Insomma Vado molto Anche con la New Wave Leggera Nel senso Che Appunto Dicevamo Prima i Visage Flock of Seagulls In New Order Non ho citato I Joy Division Comunque li metto Sempre anche Quelli Ma poi ci sono Io volevo sposare Simon Le Bon Io penso che Duran Duran Il primo album Duran Duran Sia Uno degli album Più dark E più meravigliosi Della storia Se dovessi fare Un salto indietro Nel tempo Di Trenta Trent'anni Cosa manterresti E cosa cambieresti Allora Trent'anni fa Ne avevo Ventidue No Sì Trent'anni Quattdue Sì Perché ho Cinquantadue Anni Allora Non mi sposerei Per il bene mio E del mio ex marito Lui penso che Confermerebbe Riprenderai gli studi Avrei cercato Di continuare a lavorare Radio Però avrei Mi sarei iscritta All'università Però avrei Probabilmente Cambiato città Perché Mantua Purtroppo non è una città Che a livello Diciamo Scolastico Può darti molto Cioè Nel senso che Adesso c'è una sede Delle università Ma è un distaccamento Del Politecnico di Milano O al massimo Può fare Mediatore culturale E poi comunque Mantua è una città morta Cioè Mi spiace dirlo Per tante cose Abbiamo un sindaco Adesso in città Che Sta facendo tante cose belle Comunque Anche se io non abito in centro Abito in un comune limitrofo Però Io adesso Come adesso Perché già in quel periodo Lo frequentavo Sicuramente Ripadisco Un'intenzione Che È sempre stata nel mio cuore Sarebbe Di andare a vivere In Emilia Romagna Oh Stefano Non ci saremmo conosciuti Eh beh sì Perché sono arrivati In negozio Nel 2002 Comunque Adello Vanni È veramente Un idolo Io Mi alzo le 5 e mezza Di massimo Visto che adesso Faccio Limpi gattina Vabbè Sì sì Io sono un anno Dei fossi con gli anfibi Lidia Termine clonato Da mia cugina Erika Perché Ho sempre Delle cuffie Da nano E Insomma Questa cosa È particolarmente seducente Per gli uomini E stasera Non le hai messi Proprio per l'occasione Che hai detto Però Oggi pomeriggio Ci siamo visti Con la cuffia E quasi gli occhiali Da sole Sì Oggi Sì sì Oggi avevo gli occhiali Sì perché Ero caltonata Da una visita medica Ed ero No aspetta Aspetta La visita medica Dopo Con dei vocali Fantastici Lucio Come ci si collega Con questo coso È vero Non riuscivo Ad aprire La videocamera Insomma Vabbè poi ha avuto Degli aiuti esterni Che non vogliono essere Nominanti No ci sono riuscita Dal computer Dal telefono No Però Qui sì Dai Spara la foto Compromettente Che so che ce l'hai Vabbè Questa È una foto Che amo molto È sempre un DJ set Ad una festa Che non so Se tu ho mai visitato Sante Ophemia La festa di radio Andadurto Di Brescia Che è famosa Perché insomma Diciamo È molto hippie Come festa È stato un DJ set Che abbiamo fatto Nel 2014 È stato bellissimo Anche perché Erano tre giorni Che pioveva E tu parcheggiavi La macchina Era una pozza di fango Io avevo Gli anfibi al ginocchio Sono andata giù Praticamente Fino alla vita Infatti la camicia È l'unica cosa pulita Che è rimasta Della serata Ci hanno messo Dopo un gruppo Che non si capiva Che genere facesse E la tenda Si era svuotata Perché non si era Abituati DJ set Hanno messo Sul palco C'è un video Che gira E te lo girerò Praticamente Dandy inizia a mettere New Gold Dream The Simple Minds Fra di lui Cioè lui in mezzo Da una parte Marie Castile Dall'altra io Che iniziamo a ballare La gente si vede Che sta andando via C'è il filmato Sente sta cosa E scatena l'inferno Erano le dieci e mezza di sera Siamo andati avanti Fino alle quattro Quando la festa Avrebbe dovuto Chiudere a luna Eccolo Questo è Gianni Punto di cui vi ho parlato prima Il mio migliore amico Qua siamo a Bologna Ed eravamo andati Al mercato contadino di Bologna Che è un posto meraviglioso Per il nostro cuore E con Gianni Ho condiviso tanta radio Radiobase Radio Virgilio Ho condiviso tanti Tanti momenti della mia vita Felici anche tristi Ed è una persona senza la quale Non potrei vivere Perché gli voglio un bene pazzesco Questa foto fatta da Gianluca Bacchi Durante un set fotografico Con i The Shimmer Che è un gruppo di Schio In provincia di Vicenza Che vi consiglio di andare ad ascoltare Su Youtube Andate a cercare The Name of Love E soprattutto andate a cercare Super Dark Sono due ragazzi di Vicenza Che adesso sono in stand by Al momento Ma che fanno della musica stupenda Quindi andate a cercare The Shimmer Che veramente hanno fatto delle gran cose Ah qui sono io Con uno dei miei diabolici tupè E questa foto è scattata Nella mia famosa residenza Una delle tante che ho cambiato Che era la campagna più sperduta Al confine col veronese E questo posto si chiamava Corte Dracula L'ho chiamata Perché è appunto Un gioco con Conte Dracula E lì si era sparsa la voce Che io facessi la cantante Perché c'era solo un'attività in paese Mi vedevano passare così E pensavano che io fossi una cantante Nel mio abbigliamento un po' alternativo E quello è il mio angolino Che mi ero fatta per scrivere Io vedo dei quadri neri Ecco Era il mio angolino Che mi ero fatta a Corte Dracula Con un asse E due cavalletti da pittore Perché ho provato mille volte a scrivere Ecco in questo caso Stavo cercando di scrivere qualcosa Ad inerente La storia di un paese del ferrarese Che si chiama Pilastri Forse tu lo conosci Che mi ha accetto Vicino a Bondeno Ecco Ma insomma Diciamo che ho scritto un sacco di cose E ce le ho tutte Ma nessuno le legge A parte l'ultima cosa Che i miei editori hanno letto E di cui sono molto entusiasti Nessuno legge mai quello che scrivo Anche perché spesso poi lo distruggo Perché dopo che l'ho letto Sono tanto gasata E poi lo brucio L'unica cosa che non posso bruciare Sono i post di Facebook Quindi finché resistono quelli Vado avanti Perché a volte fanno ridere pure a me Allora Prima dell'ultima foto Ecco Che stai già ridendo sotto la barba E ti do due minuti di tempo Per dire la prima cosa Che ti passa per la testa E che vuoi lasciare agli altri Cioè Nel senso che Cosa voglio far ricordare di me Sperando di sopravvivere Cosa c'hai nella testa In questo momento Allora In questo momento Nella testa Ho tanta confusione Da un certo punto di vista Nel senso che Sono stati due anni In cui ho perso Molte persone Non nel senso che sono morte Ma nel senso che Ci sono interrotti I rapporti Di lunga data A cui pensavo di tenere molto Poi mi sono resa conto che Cioè Se la gente tronca Vuol dire che non gliene frega poi niente Vorrei finalmente Avere la tranquillità Per essere tranquilla io Per lasciare tranquilli gli altri E invece io sono una pepazza E quindi La mia insicurezza cronica Spesso Rovina La vita anche Dalle altre persone E soprattutto Vorrei ricominciare A far divertire la gente Facendoli leggere E facendoli ballare E facendoli partecipare Alla mia trasmissione Perché mi piace tantissimo Avere ospiti delle persone Alla mia trasmissione Fare Scegliere loro la musica Fare un 50-50 di scelte E Evocare dei ricordi E forse da quel punto di vista lì Ci troviamo Insomma Rispetto alla tua trasmissione Che secondo me È veramente Bellissima Quando sei In radio Quanta fatica fai ad essere te stessa Ma no Io sono Me stessa A parte le prime due Tre puntate Che sembravo Veramente Una statua Di sera Di Madame Tussauds Cioè Devo contenermi Perché poi Quindi nella vita Quindi nella vita normale Quindi nella vita normale Come mai Hai delle insicurezze Che non hai sulla radio Come le hanno regalate E io le ho accettate Pieni ai mani Perché mi sono sempre sentita Con delle mancanze Ho sempre sentito Un sacco di mancanze A livello materiale A livello Diciamo Come si può dire Cioè Sentimentale A livello Insomma Affettivo E questo Da quando sono nata E quindi Questa cosa Mi ha molto Danneggiata Come Io Tu nella Autobiografia Che non hai letto Che c'è sul blog E sulla pagina Nella side Non hai letto Che insomma Io ho Due grandissimi nemici Il primo La noia Perché io mi annoio Subito Delle persone Delle situazioni Delle cose Quindi Cioè uno deve veramente Farmi fare le montagne russe Una persona Per continuare A suscitare Il mio interesse Secondo Ho la solitudine Perché io da sola Divento pazza Perché io da sola Non ci sto Non ci riesco a stare Io ho tremila cose Tremila interessi Tremila Però io da sola Ancora Non ho imparato A starci E questo Mi ha portato A frequentare Anche gente Che avrei potuto Benissimo Evitare Infatti Visto che però Pian piano Questa gente S'ha allontanata Ok Vuol dire che Non dovevano Starti vicino Eh no No però Ci ha impiegato Anni Anche perché Mi sono accorta Che spesso Cercavo io Queste persone Cioè nel senso Di occupare Uno spazio temporale Cioè chiamavo gente Che poi mi dava pure fastidio Che poi non vedevo l'ora Che si allontanasse Dalla mia vista Capito E mi rendo conto Che non è così Che deve essere Che deve andare Purtroppo Io lo dico sempre Io la teoria La so tutta La so benissimo La pratica Che è un disastro Vedi anche la guida Non gloria Da quando è Che si comincia A cambiare? Sarebbe sempre Da ieri Però L'altro Io mi ci impegno Poi dopo Deraglio E quindi Insomma E quindi E quindi La prima cosa Che dovrei fare Sarebbe allontanare Questo accidente No hai già Hai già detto Hai già sbagliato Hai già sbagliato Perché hai detto La prima cosa Che dovrei fare La prima cosa Che farò La prima cosa Che farò Ok Oltre a farmi Un lifting Perché appunto Sembra un po' Bella rugosi Come ti dicevo Prima Veramente Questo personaggio Che Mi si adatta Molto Oggi No la prima cosa Che farò E che vi dico Da sempre Allontanarmi Dal telefono Perché purtroppo Il telefono Per le persone Timide Insicure E che Sanno esprimersi Soltanto Scrivendo E che vogliono Comunque trovare Delle conferme E usare Questo accidente Ma questo accidente Ti porta anche Su delle strade Sbagliate A pensieri Magari Che non Sono fondati E soprattutto Ti porta A me Porta A un livello Di maniacalità In certe situazioni Che non va Assolutamente bene Capito E quindi E quindi Visto che ho Delle tonnellate Di quaderni Di fogli Regalati In gran parte Dalla mia amica Manuela Dal mio amico Max E ho tanti Libri Bellissimi Che voglio Leggere Ho tanti Nuovi Vinili Che mi ha regalato Anche la mia Bimba Ho Tanta musica Nuova da ascoltare Anche su Spotify E poi Voglio imparare A usare I vinili Invece dei cd Alle serate Perché Il nostro Felipe Fa dei dj set Con i vinili E è bravissimo E spero Che appena Questa situazione Schifosa Verrà Superata Spero che mi darà Qualche lezione E con lui L'architetto lui Che è un altro dj Oddio Questa io Non te l'avevo Data Però 1988 Milano Marittima Sì Ero sempre Nel periodo Poison Evey Anche se Ascoltavi Pet Shop Boys In quel periodo Lì Sì Forse è la prima Volta È l'unica In cui ho fatto Vedere le gambe Perché Non ne sono Particolarmente Orgogliosa Ma infatti Non sono uscita Neanche dall'albergo Vestita così Cioè Me l'ha fatta La mia migliore amica Che Insomma Fa Dai Facciamo una foto Così È terrificante Ecco Bene Questa è qua Faranno gli screenshot Sì sono Kelly Lebrock Non so se si nota Nel periodo Ero sposata Con Steven Seagal Anche perché Io so Tutti i gossip Di tutti gli attori Fino al 2002 No Fino al 2005 Quando ho lavorato In videoteca E poi dopo Mi sono persa via Non mi ricordo più I cognomi Perché Cioè Quando parlo degli attori Dico No Quel film con George Perché non mi ricordo Cunhe di cognome E tutti dicono Cosa dice Cosa ce la tira Questo qua E invece Mi ricordo Un cognome Che è uno Progetti A parte i libri Da domani Ai prossimi sei mesi Allora Progetti Seriamente Allora A parte i libri Mettermi seriamente A scrivere E a leggere In questi giorni La mia emicrania Non me l'ha mica Tanto concesso E cercare Di avere Una vita leggera E di regalare Vita leggera Anche gli altri E soprattutto Voglio regalare Ancora più affetto A le persone A cui voglio bene E Ce ne sono tante Secondo me qua Che sono intervenute Che mi conoscono Personalmente E a cui voglio Veramente tanto bene Ciò che mi vogliono Tanto bene E E E Cercare Di fare Almeno Tre Di quelle 3.800 cose Che ho impiantato E che Non ho ancora Sviluppato Diciamo Perché ce ne sono Tante 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 E ho un sacco Di ritagli Di materiale Che ti farò vedere Chi è L'unica Persona Che può Mettere in atto I tuoi progetti E volere bene A te Allora Diciamo che Pensaci bene Sono io Nel senso che Mi verrebbe Da dire Che io Mi appoggio Molto Alle persone Mi è stato detto Ed è vero Ad una in particolare Però Bisogna Che Purtroppo È brutto Da dire Perché lo ripeto Da anni Che Mi basi Soltanto Sul mio Volere Sul mio potere Solo che io Spesso Certe cose Non inizio Neanche a farle Perché Penso di Non essere in grado Perché io Penso sempre Di essere Dieci scalini Indietro Rispetto All'altra Persone Io da piccola Ho sempre pensato Di essere Stupida Ero sempre Convinta Di essere La più stupida Quella che ci arrivava Di me Rispetto agli altri E poi dopo Mi sono resa conto Che in realtà Ci arrivavo In un modo diverso Rispetto allo standard Però ci arrivavo Anch'io Però Comunque Questi traumi Ti rimangono Hai capito? E se E se Il treno Che sei pronta A prendere Al volo Scusami se Rido per il treno Posso fare Qualcos'altro Per aiutarti? No Siri Non sto parlando Con te No perché Devi sapere La storia del treno Che Tutte le volte Che c'è qualcuno Tipo il mio amico Fabio Che è detto Anche la mia segretaria Nel senso Che è un mio amico Carissimo Che voglio tanto bene Che è poi Quello con cui Vado in giro Per i mercatini Pitturiamolo a casa Cambiamo i mobili Facciamo tutte le cose Cioè lui mi parla Sempre di telefonini Di tecnologia Pure quando mi parla La mia amica Silvia di grafica Il mio sguardo fisso È questo Infatti Questo è diventato Io ho detto Niente Io sono una mucca Che guarda il treno Che passa Cioè io proprio La mia descrizione Per tante cose È quella Io sembro proprio La mucca Che guarda il treno Così E non capisci un cazzo Scusami Come stai dicendo Se dovessi prendere il treno Scusa? E se il treno Che tu hai già Un piede Sopra il primo scalino Inizia a fischiare E sta per chiudere le porte All'improvviso Tu ti butti su O ti tiri giù? No Mi butto su Mi butto su Perché io Spero sempre Di andare a finire In un posto Dove ricomincerò Tutto da capo Dove nessuno Mi conosce E dove finalmente Posso essere me stessa Come E ho cambiato casa Mille volte E mille volte Secondo me Ho pensato questa cosa Ma non ci sono mai riuscita Magari la volta buona Adesso tocca a te Fare una domanda a me Ma tu Ma sei così normale O l'amaro Che ti rende così? No dai A parte gli scherzi No Devo dirti Adesso Io Non ho ben capito Come è partita Questa cosa tua Delle interviste Mi sembra di aver capito Che è stato con lockdown E che ha avuto anche Un problema di salute Insomma Un incidente Qualcosa È un'idea che Si avvicina A dell'idea Che avevamo avuto Io E di alcune mie amiche Un po' così Che purtroppo Siamo molto lontane Fisicamente Così Però tu sei stato Molto bravo Perché l'hai attuata O sei stato molto costante Cosa Cosa pensi di fare? Pensi di andare avanti Con questa cosa Anche per l'anno prossimo O di fermarti Alle 365 puntate No Credo di andare avanti Anche perché Erano in programma Alle 365 Sarebbero finite Il 4 di gennaio In realtà Adesso Dato che Non mi ricordo mai Di annotare Tutto qua Ne ho prese anche Due in un giorno Quindi Prossimamente Ne farò due in un giorno Settimana scorsa Ne ho fatta A distanza Di un'ora Una in italiano E una in inglese Dopodomani Ce ne sarà Una in italiano E una in spagnolo Ma allora Ma sei anche le lingue Ma sei da sposare Già fatto Posto Allora niente Ti presento le mie amiche E basta No no Basta problemi Finiti E Adesso Mi dedico Allora Parte la fotografia Così Poi vabbè Io ho Un lavoro Comunque Da impiegato Che mi Mi porta via 8 ore al giorno Organizzare le dirette È impegnativo Quindi andrò In cerca di sponsor Perché comunque La piattaforma Deve essere pagata Io non riesco più A stare dietro a tutto Perché vuol dire Che devo dormire di meno E devo aumentare Anche col discorso Della fotografia Perché È quello che voglio fare Un domani E Le dirette Sono nate Come hai detto te Grazie O O A lockdown Perché Lavorando molto In smart working Mi sono bloccato Con le gambe Proprio Totalmente Bloccate Finché Un Un crampo Di notte Non mi ha fatto venire Un'emorragia Al polpaccio E un'emorragia Alla caviglia Dell'altra gamba E sono stato Due mesi in carrozzina Quattro Cinque mesi In stampelle E poi ho iniziato Tutta la riabilitazione Da gennaio Di quest'anno Finalmente Due settimane fa Ho iniziato A fare Anche Sei Sette chilometri A piedi Al giorno E Tanta la soddisfazione Perché Davvero Anche oggi Ho fatto Tre Quattro Chilometri Mi piace E Allora Diciamo Che Se sono riuscito A passare Questo anno e mezzo Ritirandomi su Da uno Stadio Totalmente Sdraiato Posso arrivare Lontano Sia con le dirette Che con la fotografia Perché io Sono le Dieci Diciotto Ventidue Diciotto Io sono Uno Uno Che rompe Veramente I coglioni Alla gente Nel senso Buono Perché mi piace Creare Fare Cioè Stare assieme Alla gente E Quando vedo Uno Con il muso Così Non è che Non mi piace Ma mi piace Veder la gente Sorridere Fare baracca Come Te Suoni E vedere La gente Che salta Io Uguale Perché Quando uno È Triste Indipendentemente Dal problema Che ha Tutti I problemi Sono Risolvibili Tutti Anche Quelli Di salute Perché Se Uno Ha Un grosso Grossissimo Problema Di salute Ma lo affronti Col sorriso Riesci Ad arrivare A sera E forse Anche Anche Al giorno Dopo E Non A me Non piace La gente Che si avvilisce Per niente Ci mette Lì Con un'altra Persona Che ha Uno spirito Un animo Non rompere i maroni Dopo te lo Ti do la parola Volevo dire Sono io Appunto Di quello che tu sei Capito Non è vero Perché se siamo Da un'ora E sedici minuti A chiacchierare Vuol dire Che Che non sei così Ma Probabilmente Perché Hai affiancato In tutti questi Cinquantadue anni Persone Che Piano piano Da in cima Alla montagna Ti hanno fatto Arrivare in pianura E non riesci a vedere Più distante Basta solo Ritornare A fare Il trekking Un'altra volta Eh ma Sai cosa penso Che realtà Giù dalla montagna Mi ci sono buttata Io Da sola Eh allora E quindi Tutto l'intervento esterno Eh niente Adesso c'è un paio Di scarpette Da montagna E adesso Appena Mi passerà L'influenza Forte anche Di un nuovo lavoro Che mi piace molto Anche se è molto impegnativo E di un capo Che ama la montagna Mi farò dare Dei sentieri E delle cose E ricomincerò A salire la montagna Come facevo A tre anni Col nonno A Ferrara di Montebaldo Che andavamo A raccogliare Stalle alpine Ciclamini Ricordati Che la cosa Più brutta Che io ho fatto L'anno scorso È stato Acquistare Una sedia a rotelle In internet Lì È stata Proprio La cosa Che penso Di aver fatto Di più brutto In 42 anni Perché Avevo messo Un punto A tutto Cioè tu pensavi Non camminare più E quindi Che ti sarebbe servita Solo la sedia a rotelle Poi dopo Ho detto Ma Fa Fa Veramente Cagare Fotografare Da qua sotto E ora Ricomincia A camminare E allora Dopo Metti un piede Prima Appoggi un piede Per terra Poi appoggi L'altro Ti tiri su Dalle Dai braccioli E non riesci a stare In piedi Poi dopo Ho detto Ho fatto un crowdfunding Per Riuscire a pagarmi Le cure termali Che non me le passava Nessuno E E ho avuto Il riscontro Che esistono Delle persone Che non ti cagano Per tutta la vita Ma che in momenti Di bisogno Ci sono Vedi Io negli ultimi Due anni Ma soprattutto Quest'estate Ho avuto La conferma Che persone Che mi cagavano Per tutta la vita In realtà Non avevano Il minimo interesse Se io non facevo La loro bambola Ok Mentre Altre persone Che conosco Da poco Che ho conosciuto In epoca Relativamente recenti Soprattutto In questi giorni Si sono dimostrate Veramente Delle creature Meravigliose E poi ci sono Quelli che Si sono mantenuti In una buona posizione Capito Nonostante Le mie torture Sono Una Maestra Nell'arte della tortura E non mi riferisco A Sadomaso Però ti dico Questo è stato Un anno Molto importante Nel senso Che per delle stronzate Della gente Che si è dissolta Nel nulla Nel senso Che sei come dico io Non mi vai più bene E io sono stufa Di essere come dicono Gli altri Se 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 C'è Ok Non faccio Delle cazzate Uno abbia ragione Di Mi devi comportarti In un altro modo E quindi Quando Quando pensi Di andare a fare Trekking Con le persone Giuste Adesso Mi devo comprare L'attrezzatura Le scarpe Te l'ho detto Ce le ho Perché Una volta Sono andata A Cavalese E Ho ancora Le scarpe Quelle mi dovrebbero Andare ancora bene Però Dovrò fare Un po' Dei passetti Molto Molto Piccoli Perché Non sono mica Allenata Sono anche Un po' Ciccia ciccia Diciamo Che è il peso Del decolleté Che un po' Mi blocca La salita Hai capito Quindi Insomma Magari Diventerò La salita Salerno Del dark Sai come Si chiamano Queste No Dai Non lo dico Perché Se no Bolognese Va bene Non dirlo Ecco Ho già capito Appendi Le scarpette Da trekking Al chiodo E cominci A andare Su Scalza Questo È il mio Consiglio Ci proverò Ultima domanda Sì Domani mattina Mi alzo E Domani mattina Mi alzo E Mi rimetto In console Perché Parlando di musica Anche un po' Stasera Con te Rimembrando Certe cose Mi è venuto In mente Una selezione Che secondo me Sarà molto Piacevole E ti metterai Le scarpette Da trekking No Mi metto Lo stivale Acoscia Da lap dancer Da lap dancer Scusami Voglio dire Io in console Ci vado con lo stivale Acoscia Da lap dancer Con la zeppa Trampolata Ok E comunque Diciamo che Il 15 gennaio Molto probabilmente Mi rivedrete In console Dovrete fare Un pochino Di strada Stare in Lombardia Ma ci sarà Un'occasione A cui probabilmente Parteciperò Vi voglio tutti I presenti Anche perché Poi quando c'è Da andare in console Io ho paura Quindi mi devono Cacciare Sua forza Però Ricordatevi Sabato 15 gennaio Che ci sarà Una cosa Di cui sono stata Informata Stamattina E che spero Di poter Fare Se appunto La salute Me lo consentirà E soprattutto Se avrò il coraggio Ok Hai rotto i maroni Io concludo Così Ah ma Non mi hai detto Hai rotto il cazzo Come prima Quindi sarà Contenuti Sessualmente Espliciti No perché Quello lì Era già rotto Da prima Ma sì L'ho rotto Ancora prima Di iniziare a parlare Cioè voglio dire Il se Non si dice più Farò A qualsiasi costo Il 15 gennaio Io sarò là Punto E ci sarete Tutti E ci sarete Tutti Ok Ecco Mi serve solo La valigetta Per i cd Perché la borsa L'ho rotta Perché vado sempre via Con dei pesi Da 45 chili E sono un po' difficile Mi comprerò Un trolley Porta cd E vi stupirò Con effetti speciali Va bene Ok Ok Io ti ringrazio Ma grazie a te Grazie a tutti Quelli che ci hanno ascoltato E che hanno messaggiato Adesso Aspetta Perché faccio tutti i saluti Adesso Vediamo se li Incastro tutti Grazie a Letizia Manuela Lidia Stefano Adello Felipe Andrea Augusto Aspetta 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 Chi c'è Ancora Ancora Alessandro 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 Che dico io È un DJ Con Veramente È veramente Bravissimo È un papà Un DJ Valeria Alessandra Alessandra Erna Marco Raul Eric Gianni E che cavolo Giorgio Giorgio Michele Yuri Flavia Elena Flavia la mia amica del cuore Noemi 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 mia cugina Sicuramente Ne ho persi alcuni Questi E Michela Che hanno cliccato Che hanno scritto Poi Che hanno cliccato Lidia Musso Alessandro Lui Augusto Verri Stefano Storti Elena Venturini Gianni Veronesi Flavia Lancellotti Letizia Grigna Fini Yuri Lazzarini Barbara Tomba Andrea Cecco Picchio Tenace Rock Simone Salvadori Eric Pasolini Mirko Malaguti Giorgio Chiesa Mirko Torresani E altre Non ci stanno più Allora io ringrazio tutti Perché c'è tanta gente La conosco E soprattutto voglio ringraziare Appunto A parte i pezzetti Del mio cuore E loro sanno chi sono A livello di amicizia Non solo E voglio ringraziare Anche delle persone Che ho citato anche prima Che sono i ragazzi davvero Di Casal Maggiore 33 Giri Che vi dico È un'altra organizzazione Tipo la Darkside Come Endenot E come Exvoto Che ho citato Che Cioè Cioè nonostante Uno dice Siamo in conflitto Facendo tutte le stesse cose Invece sono delle persone Che sono fantastiche Che ti supportano Che ti condividono Che ti aiutano E devo dire che I social network Sono una brutta bestia Per me Per tante cose Perché io Sono una soggetta Dipendenze Non da Da droghe Però Dico Sono stata molto fortunata A intraprendere Questo tipo di attività Anche quella della radio Appunto Con Felipe E a conoscere Della gente Così Meravigliosa Anche te Guarda Ci metto dentro anche te Anche se sei un rompiballe Però lo stesso Anche perché spero Di essere invitata Almeno una volta al mese Adesso Anche perché Ho un sacco di vestiti Da mettere E altrimenti Non ho occasione Se riesci a guardare Tutte le 345 dirette Entro la fine dell'anno Ma io ci riesco Non ci credi Ma tu non sai Quante volte ho visto C'è posta per te Ma non quello con la Maria De Filippi Quello con Meg Ryan Ecco Quindi Ci riesco sicuramente Vi faccio anche Un risoconto Va bene Grazie ancora Barbara Ma figurati Grazie a te Grazie a tutti E chi non ha Visto la diretta Dall'inizio La può guardare Sul canale Youtube Miraggio di Lux Da domani in poi Io ti farò avere il link E così Diffonderai anche quello Come hai fatto In questi giorni Con tutto il resto Va bene Io vi auguro Una buona notte E vi Come dico In mia trasmissione Un bacio da Lucrezia Ciao a tutti Ciao Aspetta 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 che faccio Al serio Stai lì Un attimo Cosa ci sono I titoli di coda Se riesco a trovarlo No Non ci sono Porca lì Dove Negli anni 70 Con cui vedevi Anche le scimmie Di mare Accidenti Le avrei tanto Voluti vedere Finalmente dal vivo Perché io Su Grandotelli Volevo Qua c'è un casino Che metà basta Solo che Li avrò messi Da qualche parte Ma non li trovo Insomma Meglio così Perché Niente Fregatene Buona serata a tutti Ciao a tutti Buonanotte Ciao Buonanotte Ciao Ciao